Ma vi ringrazio moltissimo per le parole di stima, di apprezzamento e la fiducia che riponete nel mio ruolo nelle prossime discussioni del Consiglio europeo. Naturalmente posso solo, come dire, augurarmi di non deluderla. Però prima di cominciare veramente vi ho voglia di rispondere all'onorevole Rampelli che ha messo in dubbio la mia volontà e la mia capacità di rappresentare gli interessi degli italiani. Volevo solo dirgli che ho finito il discorso con questa frase. Il vostro sostegno è determinante per portare avanti gli interessi italiani in Europa.